parto a presupposto chi è più leghista dei leghisti e chi ovviamente si è sentito tradito oggi dalla lega di Matteo Verdini possa discutere solo con noi ma noi siamo federalisti da sempre quindi non è una nostra una scelta di opportunismo oggi si sta compiendo la profezia del sud che chiama del nord che risponde è quello che già Umberto Bossi il 22 di settembre scorso quando ci siamo incontrati ha avuto modo di apprezzare federalisti e contro il centralismo dello Stato ma anche contro questo centralismo liberticida dell'Unione Europea noi siamo contro la mafia le mafie i mafiosi a differenza magari di Matteo Renzi che sta facendo di tutto perché l'accordo con Cuffaro l'ha chiuso solo che Cuffaro gli ha detto mi candido io personalmente se non se ne fa nulla e quindi ora Matteo Renzi è in difficoltà noi che nella nostra terra sappiamo cos'è la mafia è ovvio che vogliamo lanciare un messaggio chiaro e forte capitano ultimo per noi è il simbolo di questo messaggio e con noi e vogliamo quindi allontanare già in partenza anche quelli che possono essere tentativi meno avvelenate che nel frattempo magari qualcuno potrà pensare di lanciarci grazie Grazie a tutti.